Danilo Facchinetti, presentiamo il nuovo acquisto delle Ciliverga, Alessio Garofalo, terzino sinistro, un passato importante, recente alle spalle, formazione professionistica, viene ad arricchire la rosa a disposizione di Carobbi, un colpo importante. Sì, un colpo importante per noi, che arricchisce la nostra rosa di sostanza, di esperienza, un ragazzo che ha fatto il settore giovanile dalla Lazio ed è cresciuto, giocando sempre tra i professionisti. Quest'anno si è abbassato per rilanciarsi in Serie D e speriamo che si rilanci veramente. Ecco, una rapida presentazione tecnica, terzino sinistro l'abbiamo detto, in caso di necessità si può adattare anche come centrale difensivo, quindi una variabile importante a disposizione di Carobbi. Sì, come tutti i giocatori che cerchiamo di prendere, non vogliamo giocatori cosiddetti ecletici, che possono fare almeno più ruoli durante una partita e Alessio corrisponde a questo. Alessio, benvenuto al Ciliverghe, abbiamo parlato del tuo passaggio tra virgolette alle spalle, una formazione importante, Lazio, Perugia, Cavese, Paganese, l'ultima tua esperienza tra i professionisti. Scendi al Ciliverghe, ho grande voglia di importi. Sì, scendo al Ciliverghe, ho grande voglia di far bene, ho grande voglia di giocare, mi sono immerso bene nella squadra, ho trovato un gran gruppo unito, mi hanno accolto subito bene, quindi sono molto motivato. Ecco, sei a disposizione di Carobbio da qualche settimana, hai fatto un periodo di prova, sei stato provato nel tuo ruolo naturale terzino-sinistro, anche come centrale difensivo, come ti sei trovato e come è stato l'impatto con l'allenatore? L'impatto sin da subito, sin dal primo giorno, è stato importante con l'allenatore, subito c'è stata intesa, ovviamente devo lavorare come centrale sotto alcuni aspetti, però sono motivato e lavoro duro per imparare. Arrivi in una società con un progetto ambizioso davanti a lei, quest'anno c'è l'obiettivo di una salvezza tranquilla e fare il maggior cammino possibile in Coppa Italia per poi crescere in futuro, come ti sei trovato? Mi sono trovato assolutamente bene, ripeto, mi sono trovato bene con i compagni, con la società, con tutti, mi hanno accolto sin da subito molto bene, pensiamo partita per partita a far bene, stiamo facendo bene, quindi la strada è quella giusta. Tuo obiettivo personale all'interno della stagione? Sicuramente come ogni giocatore giocare il più possibile, crescere sotto tutti i punti di vista e poi pensare al futuro, però intanto pensiamo al presente. Per un giovane come te, visto anche il tuo ruolo, penso sia importantissimo imparare il più possibile una grande occasione da Minelli, un giocatore che ha calcato i campi di Serie A. Sì, assolutamente, infatti ci parlo spesso con lui dentro e fuori il campo, prendo molto spunto da lui, lo osservo durante gli allenamenti per cercare di immagazzinare il più possibile. Comunque ha fatto una gran carriera, quindi solo cose positive si possano prendere. Grazie, un bocca al lupo. Crepi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.